Buongiorno bambini, sono felice di potervi parlare e di raccontarvi quello che vedo passeggiando con Pedro al mattino o alla sera. In questi giorni sono fioriti moltissimi fiori e ho deciso di raccoglierne un po' per voi. Bambini, i primi soffioni! Avete visto? Li avete anche voi in giardino? Grazie a tutti! Non solo fiori ci sono, ma anche molti suoni. Ci sono cinguetti di uccelli e rumori di alcuni insetti. Ve ne ho registrati alcuni, così potete divertirvi a rovinare di che animale si tratta. Senti il m'herla? Lo riconoscete il cucula? Bambini, c'è un grilletto che vi saluta da questo bel prato. lo vedete? La testina nera? È molto timido. Ecco che esce! Ecco che è uscito! Lo vedete il grillo! È il grillo John! Guardate! Queste sono le casette dei grilli! Nei prati! Guarda il nostro amico che spavaldo! guarda! È rientrato! non so se riuscite a sentire il ronzio delle api operose! guarda! 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 anche voi potrete fare i ricercatori magari nel cortile sotto casa trovare qualche lucertola una lumacchina nascosta in un angolino umido o le formiche o sentire sull'albero il luccellino che canta provate a vedere, provate a guardarvi in giro e ad ascoltare i suoni della natura ciao bambini, a presto un bacione grande grande